ciao ragazzi un saluto da maurizio benvenuti sul mio canale oggi porto un altro prodotto chiedo scusa perché da un po che non porto video ma ogni volta che mi arriva qualcosa io ve la metto qui sul mio canale quindi restate iscritti perché in questo modo a sorpresa potrebbe arrivare qualche video che vi interessa appena appena arrivato da amazon l'apriamo assieme questo lo andiamo a vedere dopo e questo qui è un piccolo a usb vi faccio vedere un po qua tutte le caratteristiche ha tre porte usb 3.2 generazione 2 una porta hdmi che può trasmettere in 4k a 30 hertz mentre 60 hertz se utilizzi full hd una porta lan una porta usb c che quella ti serve solamente per poter ricaricare il dispositivo dove l'hai collegato dovrebbe ricaricare al massimo 70 80 watt mentre in input supporta al massimo 100 watt lettore di schede dsd e micro sd qui porto un po tutte le caratteristiche non so leggere leggetele voi guardate adesso lo andiamo ad aprire l'apriamo in questo modo ed ecco qui qui un bigliettino per ringraziarci dell'acquisto tutto scritto in italiano c'è anche il supporto l'assistenza un quercode che dove lasciare una recensione all'interno troviamo un piccolo ferma cavo in omaggio con un supporto biadesivo sotto un piccolo manuale di istruzioni vediamo un po c'è anche l'italiano e adesso ragazzi arriva il punto forte eccolo qui dovrebbe essere in alluminio per dissipare il calore quella vicino così lo vedete bene schede sd e micro sd qua la sd micro sd porta hdmi tre porte usb 3.2 è una porta usb c per permettere di ricaricare qui porta lan il cavetto di collegamento usb c è lungo 15 centimetri io questo dispositivo l'ho preso per usarlo con il mio tab s8 ultra quindi sapete tutti che il tab s8 ultra ha solo una porta se ci vuoi collegare tastiera mouse in questo caso non vuoi usare la lette wifi vuoi usare la rete lando questo qua viene utile se devi caricare delle foto tramite schede questo qua viene utile però se lo tieni collegato questa porta è utilissima perché in questo modo puoi caricare il tablet visto che l'unica porta di ricarica impegnata da questo tac da questo ab adesso vado a prendere il tablet lo colleghiamo poi proveremo un po tutte le porte vedremo un po come si comporta se legge correttamente le schede le penne usb e se funziona questo qui ea che velocità ma questa porta dovrebbe supportare al massimo un giga quindi la proveremo in modo da valutare se effettivamente fa quello che deve fare sono qui con il mio tab s8 ultra qui sul lato destro troviamo la nostra porta usb c proviamo a collegare il nostro hub il risultato finale è questo qui a me il risultato finale in questo modo con questa che resta appeso che non appoggia completamente sul piano non piace anche perché a lungo andare potrebbe danneggiare la porta del tablet oppure il cavetto del hub e visto che il cavetto della non si stacca dal hub quindi se si danneggia lui dobbiamo buttarlo via e comprarne un altro a questo punto ho preso questa prolunga che averla non fa mai male è una prolunga usb c maschio femmina non crea nessun collo di bottiglia perché anche lei e usb 3.2 faccio vedere qui il cavetto è fatto in tessuto resistente perché lo sento abbastanza resistente poi si abbina perfettamente a quest'anno guardate qui adesso proviamo a collegarla mentre la collego vi informo che questa prolunga la trovate da 20 centimetri lunga 20 centimetri 50 centimetri come questa qui fino a un massimo di un metro adesso ragazzi è tutto più comodo tutto più comodo quindi il cavo non appesantisce la porta del tablet adesso prendo un po di roba cominciamo a provarlo vediamo un po come funziona ragazzi ho collegato tastiera mouse tramite il suo ricevitore usb una chiavetta usb 3.0 da 32 giga una micro sd da 16 giga che sa quei vecchissime lentissima un cavo che ti permette di caricare il tablet o computer mentre usi tutto lab vi ricordo che in ingresso supporta massimo 100 watt in uscita esce al massimo 70 80 watt io per il mio tab s8 ci sto dentro alla grande il mouse funziona tranquillamente quindi mi muovo in tutta l'area dello schermo vedete riesco a fare qualunque operazione con la tastiera riesco a scrivere quindi se scrivo qui nella barra di google scrivo dappertutto tasto usciamo se vado nell'archivio vado a visualizzare i dispositivi connessi adesso mi avvicino così magari riuscite a leggere meglio vedete che qui ci troviamo la micro sd da 16 giga per qui la chiavetta da 32 giga allora se noi apriamo la chiavetta la micro sd riusciamo a vedere all'interno cosa c'è questo non lo apro non so che cos'è non mi ricordo quindi non voglio farmi bucare il video che dopo numero pubblica youtube la chiavetta c'è mi sembra un immagine di windows sopra quindi adesso andiamo a provare a togliere la micro sd uso un adattatore per schede micro sd che diventa una sd adesso andiamo a vedere come si aggiorna ecco qui si è aggiornata dalla vista infatti ha cambiato di posizione erano prima erano tutte e due uno vicino all'altro adesso sono abbastanza distanti quindi direi che anche in questo caso questo slot funziona devo dire ho provato anche questa sd ma non me la vede può darsi che informattata in un in un formato diverso adesso andiamo a provare la lan come funziona se riesce ad arrivare a un giga io ho a casa mia la fibra da un giga ma sono proprio curioso quindi andiamo a provare ho collegato il router a lab quindi il collegamento è stato visto dal tablet perché se scendo giù mi dice appunto qui che da un po se in questo modo che il cavo ethernet è stato collegato adesso facciamo uno speed test vedete che il wifi dove faccio vedere è spento quindi non è collegato tramite wifi facciamo questo il classico vediamo un po come va pingotto si quasi 500 mi aspettavo di più non mi fa strano che non mi fa l'upload però facciamo così facciamo il primo adesso questo quello di google presto a poco sono in linea vi ricordo che c'è la connessione la fibra da un giga in upload siamo a 300 come deve essere e questa è la connessione 488 in download 303 in upload adesso vediamo un po se io faccio lo speed test qui con il mio smartphone qui tramite wifi stiamo attorno a 726 in upload si è lo stesso che mi dà il tablet quindi ragazzi dire che la prova è finita abbiamo visto un po tutto abbiamo visto che la tastiera viene riconosciuta le chiavette usb vengono riconosciute anche micro sd sd vengono riconosciute una non me la riconosciuta ma l'indagherò cercherò di capire perché non mi viene riconosciuta quella sd davvero può essere che l'ho usata per una macchina fotografica che usava una formazione diversa quindi non compatibile col tablet ricaricare ricarica in descrizione io ti metto il link così sia della prolunga usb che secondo me è obbligatorio acquistare perché il cavetto della abbastanza corto e quindi andrei scomodo ad usarlo oppure si fa però rischi anche di rovinare la porta usb cc del tablet invece con la prolunga è tutto più comodo e riesce a gestirla meglio quindi descrizione ti metti il link da lì puoi controllare anche le varie caratteristiche io poi lo provo questo prodotto se trovo qualcosa che non funziona e che non va ve lo faccio sapere nei commenti bene ragazzi un saluto da maurizio ci vediamo al prossimo video ciao ciao